Un'azienda precarizzata in cui vengono assunti a tempo determinato 40 autisti tramite agenzie interinale, mentre altri 40 operatori attendono da più di due anni che il loro contratto part-time venga trasformato in full-time. Condizioni lavorative sempre più basate sull'incertezza e sulla progressiva diminuzione dei diritti, tutto ciò nell'ottica di un ipotetico risparmio con la riperuta giustificazione della pandemia utilizzata per ogni occasione. A scattare la fotografia sulle condizioni dei lavoratori della Tua di Sulmona sono le organizzazioni sindacali, ormai sul pire di guerra, che manifesteranno la mattinata lunedì prossimo davanti alla stazione ferroviaria, nella fermata Capolinia, aderendo allo sciopero di quattro ore proclamato dalla Segreteria nazionale per contrastare il mancato rinnovo del contratto collettivo scaduto nel 2017, ma anche a sostegno dell'avvertenza aziendale di Tua. In pratica due scioperi che coincidono nella stessa giornata con le stesse modalità di astensione dal lavoro, dalle 9 alle 13, nel rispetto della fascia di garanzia. Le organizzazioni sindacali contestano la società regionale di Trasporto Tua a una gestione sconsiderata che in un asse temporale di due anni è stata in grado di soppiantare le prerogative di un'impresa. Ma ancora tra le motivazioni ci sarebbe proprio la serie di Sulmona, quello che doveva essere un deposito di ultima generazione con annessa officina all'avanguardia con la mission di diventare un punto di riferimento per le altre sedi sparse nella nostra regione, a oggi non è che una cattedrale nel deserto, in cui non è ancora funzionante l'impianto di lavaggio e di rifornimento dei pullman, dove gran parte dello spazio all'interno del capannone è inutilizzato e migliaia di metri quadrati che dovevano servire da rimessa sono diventati un ricovero per volatili. Tuonano dei sindacati pronti alla protesta.